Ancora sequestri di sigarette di contrabbando nel napoletano. 18 tonnellate di bionde illegali sono state bloccate dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli in un'operazione inserita nell'ambito delle attività di intensificazione del contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Un fenomeno che non tende più ad attenuarsi, che sta raggiungendo numeri simili a quelli di fine anni 70 e inizio anni 80. Le sigarette erano occultate in due depositi, uno in Orta di Atella, provincia di Caserta, l'altro a Napoli nei pressi dell'area portuale. I militari del nucleo di polizia tributaria di Napoli ci sono arrivati dopo un'accurata indagine a seguito del pedinamento di un furgone sospetto. Il conducente del mezzo, giunto in prossimità infatti del deposito di Orta di Atella, forse abbedutosi della presenza dei militari, ha provato a fuggire danneggiando tra l'altro molte vetture in sosta. Dopo l'inseguimento i militari hanno bloccato l'automezzo che era a carico di sigarette di contrabbando e arrestato il conducente, un italiano di 35 anni. Nel deposito erano invece stipate oltre 9 tonnellate di bionde. Le sigarette prodotte negli Emirati Arabi Uniti con marchio Gold Mount, RGD e Malimbo, come emerso dalla documentazione rinvenuta, sarebbero giunte nel nostro paese dopo essere transitate in altri stati europei. Successivi accertamenti hanno consentito di individuare la società incaricata del trasporto e delle operazioni di sdoganamento del container. Nella sede di questa azienda sono state trovate in un container altre 9 tonnellate di sigarette illegali. In totale una persona arrestata, 5 denunciati a piede libero, sequestrati oltre ai tabacchi di contrabbando anche il furgone per il trasporto, due container e il deposito di Orta di Atella. Il valore commerciale delle sigarette si aggira intorno ai 2 milioni di euro. I 900.000 pacchetti erano destinati al mercato partenopeo.